bella ragazzi a tutti la comandone veneziano ragazzi siamo al 20 godi di verona verona palermo la prossima fitta con la juve ragazzi c'è bisogno di punti e adesso fare punti perché sennò fiore zampa si incazza che vuole assolutamente almeno l'europa league con la squadra che abbiamo possiamo arrivare l'europa league il problema è che facciamo tanta tanta fatica a segnare marquez henry che recupera da henry kane sta deludendo abbastanza per il momento quando l'ho pagato un milione di euro ragazzi vuol dire che deve crescere tanto è una squadra veramente di giovani cataldi altro giovanissimo il kata grandissimo kata il kata il kata prova un tiro impossibile il kata buona buona però dai ci siamo ci siamo rafael si sporchi guanti rinvio attenzione lucchetta lucchetta tony dai palermo e di bala però molto bene perotti di bala di bala perde da pre la vai da pre vai da da pre il da pre la mette in mezzo l'uragano di testa harry kane harry kane 1 a 0 palermo finalmente si sveglia l'uragano mamma mia che bel gol gran gol di testa dell'uragano fiore 1 a 0 1 a 0 palermo maresca 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 cosa ha fatto maresca maresca può lanciare qualcuno e non lancia nessuno che gol finalmente l'uragano cazzo finalmente harry kane capa letta harry kane harry kane ha provato un giochino non li è riuscito però comunque palla al palermo recupera il verona però attention please attention please non fare dei cambi comunque schema di gioco perotti è morto metti apriamo vasquez di qua no bisogna fare così per forza al posto di dibala mettiamo kaison al posto di maresco maresca mettiamo bolzoni che è sempre buono stiamo attenti però luca toni non ci arriva luca non ci arriva luca gol non ci arriva luca gol giochino giochino la tira su per kane sa viola teniamo duro ragazzi andiamo a vincerla no che cagata che brutto passaggio bellissimo salvataggio il palermo può ripartire cataldi cataldi si invola cataldi per kaison vai vasquez vai vasquez vasquez fa il numero vasquez vasquez parata del portiere christiansen perché esistono i portieri toni avversari rugani 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 contro saviola saviola è più veloce saviola javer javer ragazzi siamo al barbera guardate che bello che è alermo torino fioi ho fatto diversi i cami per il gioco della squadra è stanca ho messo vasquez bolzoni rigoni dal primo minuto barreto ho provato vediamo ho messo kaison anche dopo il furto della partita del bentegodi speriamo di vincere col torino veramente come sempre per il comendone non inizia un po lento speriamo di recuperare cataldi vasquez vasquez numero del vasquez vediamo vasquez la prima minuto cosa conviene la squadra deve ancora capire i meccanismi di veneziano c'è poco da fare il torino si è limitato a giocare così pazzesco vasquez non va un passaggio filtrante non ne va uno cristo di un dio no attenzione no la beffa ancora novantesimo fuori mamma mia ragazzi ne facciamo tre comunque di partita perché ne voglio vincere una dai diva dai presso però mamma mia classico argentino che non ha voglia di fare un cazzo dai che roba nostra bravo sorre sorrentino all'arancia lunga vai dibala 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 un cioccolatino per il vivia rugani cataldi cataldi per dibala stavolta deve essere gol dibala ancora miracolo di viviano henry kane niente non riusciamo a segnare non riusciamo a segnare non si segna non si segna beppe non si segna secondo tempo siamo all'ottantesimo non so più cosa fare per segnare le sto provando tutte cataldi 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 hai visto i passaggi qua in centro campo quello non deve sbagliare terzi la butta su terzi per il nulla recupera viviano scena che fa ricambi porca puttana rugani vai cazzo vai vai kane kane per dibala dibala è finito dibala è stanchissimo vai kane regalami il sogno kane kane per perotti 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 la metterla in mezzo finisce davvero su questo cross ragazzi avete visto ho dominato ma mi manca solo il gol andiamo a vedere la classifica però sono speranzoso perché il gioco c'è raga raga manca solo manca solo il gol ok per carità nel calcio è tutto però viviano migliori in campo loro vediamo se la classifica è già il milano ha vinto con Torino il miracolo la Juve 7 vittoria su 7 12 gol fatti 3 subiti bene Nazionapoli Fiorentina il Milan è un po' ripresa parleremo 7 punti l'Europa League dista 6 punti manca ancora tanto il discorso è che abbiamo fatto veramente 2 gol fatti 4 subiti va bene raga un saluto il commentone veneziano nel prossimo video prometto la vittoria e tanti tanti gol ciao